I miei momenti preferiti di quest'anno a Italia's Got Talent di sicuro c'è il momento della foto di Elio e la reazione di Mario. Poi uno dei momenti più potenti di questa edizione di sicuro è il Golden di Elio che dopo tutte queste edizioni che ho fatto penso che sia proprio uno dei Golden di Elio più spettacolari. Quando c'era il bimbo dei dinosauri, un bambino, e sapeva tutti i dinosauri, io da piccolo ero appassionato di archeologia e volevo parlare troppo. Eccolo qua, il più grosso. Ma quanto è grande? Eh. Avrei evitato, vabbè. Ma non fategli fare delle cose troppo semplici. Ma no, voglio sapere di più. Ragazzi, non fatelo arrabbiare, altrimenti scatta il ruggito. Ah, sì? Fatti sentire, ruggita? Fatti sentire? Ovviamente, uno dei miei momenti preferiti è quando volontariamente ho fatto canestro. Una botta o lo fai bene o no? Oh! Un altro mio momento preferito è stato l'ingresso di Claudia Lawrence, che è la signora a cui avevo dato il Golden, che balla e ha adesso 96 anni. È adorabile! Ha! Ha chapter 4! Non cousca sentire, nel golfo, nel difference. 않을 Più, nel grego Ha! So time had no time in space. Ha! Grazie.